E perché li condisci sul fuoco? E se zaporiscono meglio, no? Come si dice? Il calore li aiuta a sposarsi. Il sugo avvolge la pasta, arrapandola, la penetra fino a dentro e la ingravita di sapone. Senti che profumo arzillo? Adesso ho capito perché si chiama puttanesca. È uno spaghetturodico. Più che altro frodisieco. Riempie la panza e indosta la manza.